Cittadini e zona 1 sulle barricate da due giorni per salvare le belle magnoglie di largo Cairoli a Milano. Mille firme raccolte per scongiurare il taglio delle piante, una delle quali è alta 6 metri e ha un tronco largo 3 ed ha 60 anni che lo colo sbocciare dei suoi fiori annuncia la primavera. Le magnoglie devono essere abbattute per fare spazio alla nuova corsia, per le due ruote ed un ampio marciapiede, ma il fronte pro magnoglia chiede flessibilità, salvare l'albero a costo di restringere il marciapiede. Sangue feriti in Parco Gramsci a Sesto San Giovanni. Tre writer non avevano paura di essere scoperti. Appena sono stati avvistati e trovati in flagranza di reato hanno reagito aggredendo con i bastoni. Prima il personale di sorveglianza dell'ATM e poi una pattuglia di carabinieri. Due vigilantes e altrettanto militari sono finiti in ospedale. Uno dei malviventi è stato arrestato e gli altri sono scappati. Dopo la pausa estiva torna la tensione tra tassisti e autisti Uber. In Largo Caironi c'è stata una lite tra due conducenti di auto bianche e un autista del servizio con noleggio prenotabile tramite app. Ad allertare le forze di polizia alcuni passanti. Tutte e tre le persone coinvolte sono italiane e incensurate. All'origine del diverbio presubilmente motivi legati allo svolgimento del servizio di trasporto passeggeri. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Test clinici sugli ammalati. Vediamo il servizio. La partita dei test clinici si gioca sulla pelle dei malati eppure le regole vengono dettate dal marketing delle aziende farmaceutiche che producono i farmaci. Pazienti che partecipano a studi sull'efficacia dei farmaci mettendo a disposizione il proprio corpo e la propria sofferenza per scoprire poi che lo studio a cui hanno partecipato non sarà mai reso pubblico. Medici che prescrivono farmaci che credono efficaci e sicuri per poi scoprire l'esistenza dei studi che dicono il contrario ma che nessuno ha mai pubblicato. Paesi che stanziano massicci finanziamenti per l'acquisto di farmaci e altri dispositivi sanitari per i propri cittadini sulla base di studi forniti dalle case farmaceutiche che nessuno può verificare. Ci sono antidepressivi, anticancro, anticoagulanti, antinfluenzali nelle testimonianze di ricercatori e medici che fanno i conti con carenze di informazione che possono provocare gravi danni alla salute dei pazienti. Sono vicende raccontate dai medici e dai ricercatori che promuovono la campagna internazionale All Trails. Chiede che tutti i trace clinici gli studi di efficacia dei farmaci siano resi pubblici perché le aziende farmaceutiche nascondono i risultati degli studi poco favorevoli e anche quando gli studi servono ad autorizzare la messa in commercio dei farmaci restano un segreto industriale, con buona pace dei malati che hanno partecipato alle sperimentazioni. Veniamo alla cronaca cremasca e cremonesi. Rientro a casa ritardo e con beffa per i pendolari della linea Mantova-Cremona-Milano. A raccontare è Matteo Casoni del comitato pendolari in orario. Il treno 2663 viene dato con 20 minuti di ritardo in partenza, poi i minuti continuano ad aumentare fino a 60. Alla fine, a causa di un guasto, viene detto di andare in un altro convoglio per poi vedere sfrecciare il famoso treno in ritardo per guasti vuoto. Una gestione indegna dalla situazione ed una vera presa dai fondelli. È inaccettabile. Grave incidente sul tardo pomeriggio di una Toyota Yaris guidata da una 25enne che viaggiava accanto al marito di 30 anni e alla figlia di 11 mesi, posizionata sul sedile posteriore che si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Golf. Grande la paura per la piccola, anche se il ferito più grave è il papà che potrà avere riportato la frattura di una gamba. L'intera famiglia è stata trasportata all'ospedale di Cremona. Lo schianto è avvenuta sulla strada provinciale 67. Maxi furto stanotte ai danni del depuratore 1 della Padagna Acque in via Colombo a Crema. I ladri, dopo aver divelto la recinzione che costringeva il parco del Serio, si sono addentrati all'interno dell'impianto, prendendo di mira l'impianto elettronico del depuratore. 1.700 metri di cavi elettrici per un quantitativo di rame pare a 40 quintali e hanno rubato un forgone Fiat Doblò di Padagna Acque ed una Fiat Panda. Da una prima stima la montare del furto supera i 100.000 euro. Prosegue l'avvertenza Danone. Ieri i referti sindacali hanno incontrato i rappresentanti dell'azienda Milano, sulla sede di Asso Lombarda, e questa mattina presso lo stabilimento di Casale Cremasco, in chiusura a luglio 2015, si sono svolte le assemblee per fare il punto della questione. Già dello scorso mese di luglio, spiega Maurizio Bertolaso, abbiamo solicitato la Galbani per sapere se intendeva affittare nuovamente oppure vendere lo spazio ora occupato dalla Danone. Per gli operai a novembre partirà la cassa integrazione. Sblocco Italia sulla paulese, vediamo il servizio. Vertici dei sindaci dell'asse paulese delle tre province nella sala consigliare di Spino D'Adda. Oltre ai padroni di casa erano presenti Crema, Madignano, Vaiano Cremasco, Pandino, Dovera, Zelo Bonpersico, Paullo, Pantigliate e Sandonato, ma anche molti altri sindaci sui cui territori non passa l'ex 415, come Moscazzano, Vailate, Agnadello, rivolta ad Adde o Fanengo. Tutti insieme, spiega Paolo Riccaboni, coordinatore dei sindaci e primo cittadino di Spino, abbiamo voluto dare voce alla nostra richiesta inviata al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, di applicare lo sblocco Italia alla paulese, iniziativa condivisa da almeno altri 20 comuni, dato peraltro provvisorio. I cantiere della paulese si sono avviati dopo 30 anni di proteste, richieste e istanze con un progetto complessivo di 310 milioni di euro. Ora restano da realizzare circa 52 milioni di euro di opere, solo un sesto del totale. Il ponte sull'Adda, ora in capo alla provincia di Cremona, il tratto da Zelo Bonpersico a Paullo, il cui progetto definitivo è provato ma non finanziato, le intersezioni semaforiche di Sandonato, di cui esiste un progetto con scavalco ciclo pedonale di Via Moro ed una possibile bretella all'altezza dell'Ipercop Galleria Borromeo. L'importanza dell'incontro è facilmente sintetizzabile, capacità di azione corale per raggiungere obiettivi comuni, indipendentemente dalle provenienze storiche, geografiche e culturali. Il nostro obiettivo è fare in modo che la paulese sia completata integralmente e i problemi del territorio abbiano risposte e condivise. Veniamo alla cronaca Bergamasca. In coda da una notte o addirittura da un giorno intero, pur di comprare subito il nuovo iPhone 6. Il rito degli appassionati del melafonino si ripete anche quest'anno a Bergamo. Al centro commerciale Orio Center alle 5 in punto c'erano in fila già 60 persone, alle 6 erano oltre un centinaio. Fra loro davanti a tutti Riccardo, trentenne di Bellusco, che si è presentato ieri notte alle 4 nel parcheggio arancio del centro commerciale, con un sacco a pelo pieno di pazienza ed entusiasmo per essere 28 ore dopo il primo ad entrare nell'Apple Store. Lo studente di 15 anni del liceo Lussana, che il primo giorno di scuola si era lanciato dal tetto dell'istituto, è morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, nella giornata di ieri. Per 10 giorni lo studente classe 1998 ha lottato tra la vita e la morte, assistito dai parenti e dal padre, che è medico, dello stesso ospedale. Ruba tre bottiglie di vodka dal valore di 27 euro e poi fugge. Bloccato, prenda pugni una guardia giurata e un poliziotto. Protagonista della movimentata serata, un 21enne di Ispirano. Catturato e consegnato ai carabinieri del radiomobile, è arrestato per tentata rapina, violenza, resistenza ed oltraccio ad un pubblico ufficiale. Calano i consumi di birra. Vediamo il servizio. La crisi non dà tregua, di conseguenza calano i consumi. In un contesto del genere, il piatto dell'industria alimentare bergamasca ancora non piange, ma inizia a dare qualche segno di cedimento. Il quadro del settore, soprattutto se paragonato ad altri comparti, resta positivo, ma dal sindacato arriva l'allarme. L'industria alimentare orobica inizia ad avere alcuni problemi, legati principalmente alla lenta ma costante flessione di mercato, spiega Francesca Seghezzi, segretario della Flai CGL. Certo ci sono eccellenze, come la San Pellegrino, che mantengono altissima la loro quota di mercato, ma in questo caso si tratta più di un marchio che di un prodotto, dal fascino indiscusso. Fra le note liete, nonostante un'estate piovosa, che ha ridotto sensibilmente la richiesta di birra, c'è anche la situazione dell'Heineken di Comun Nuovo, dove tra poche settimane verrà siglato il nuovo contratto integrativo, dopo che la bozza verrà approvata da una votazione che coinvolgerà a fine mese i circa 150 lavoratori dello stabilimento. Veniamo alla cronaca lodigiana. Rubati tutti i soldi nella sede dei bersaglieri di Lodi, i ladri sono entrati di notte con una chiave bulgara e si sono impossessati di circa 6.000 euro, costuditi in una casaforte. Inoltre hanno scassinato la macchinetta del caffè. Quel denaro lo avevamo raccolto con le nostre iniziative e li volevamo usare per recintare il monumento dei bersaglieri, dicono all'associazione. Ora siamo rimasti senza niente. Famiglia lodigiana coinvolta in un incidente a Caorso. Grave un bambino di 5 anni. Il piccolo era in auto con i genitori e la loro vettura è rimasta coinvolta in uno schianto con altre due macchine. Il bilancio complessivo parla di 5 feriti, il più grave dei quali è proprio il bambino che è stato trasportato ad urgenza dal 118 in ospedale a Piacenza, a causa di un trauma cranico. Non si troverebbe comunque in pericolo di vita. Agli scavi nel pieno centro storico di Meleniano vengono scoperte tracce di una cisterna dei primi anni del Novecento. Arriva quindi lo stop al cantiere. Da qui le lamentele degli ambulanti del tradizionale mercato alimentare che, proprio a causa degli scavi, in piazza 4 Novembre hanno dovuto traslocare nel piazzale delle associazioni. Lavori a rischio di ritardo, il cantiere è di fatto bloccato. Lavori per 300 mila euro alla casa di riposo di Lodi. Vediamo il servizio. Più accogliente e funzionale, la Fondazione Opere P e Riunite di Codogno programma gli interventi strutturali da realizzare da qui all'inizio del 2017. Un piano lavori da circa 300 mila euro e che fra gli altri prevede la realizzazione della nuova sala da pranzo, del centro di urno integrato ed anche la bonifica del tetto, ancora in eterni, dell'RSA. Già deliberati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente, gli investimenti in questione sono stati illustrati domenica dal Presidente dell'Ente, Giovanni Barbaglio. L'occasione è la tradizionale festa dell'ospite che da qualche anno porta all'RSA di Via Bassi ad aprirsi alla città, ai familiari degli anziani, alle autorità, per un giorno, fianco a fianco, con ospiti, operatori e educatori. Interventi onerosi impegnativi che hanno un solo obiettivo, il benessere dell'ospite della nostra casa di riposo. Quotidiano TV termina qui, arrivederci alla prossima edizione. Grazie. 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 Grazie.